In direzione Firenze In direzione Pisa Sulla diramazione Lucca-Viareggio incidente al chilometro 80 e 200 Tra Massarosa e Lucca-Ovest in direzione Lucca In A12 a Pisa Nord chiuso per lavori l'allacciamento tra la 11 con provenienza Lucca e l'A12 Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze Code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci Code in uscita alla Strassigna e in uscita a San Mignato e in uscita a Santa Croce sull'Arno Tutte provenendo da Firenze Ed è tutto, buon viaggio Grazie a tutti Grazie a tutti